Oh, e tu che vuoi? Eh? Che vuoi? Devo fare la cacca Ah, va a fare cacca Logicamente per un certo periodo non dovrai avere contatti con nessuno Né con noi, né con la tua famiglia Ego io, vabbè Sai come ti chiamerai? Eh Luigi Rossi Luigi Rossi E sai dove lavorerai? Eh Lavorerai presso l'agenzia di spedizione Velox Velox, allora, allora, facciamo mente locale Non devo frequentare nessuno, né voi, né la mia famiglia Nessuno Ho capito E ti chiamerai? Mi chiamerò Luigi Rossi Luigi Rossi E devo lavorare a Velox Perfettamente Ecco qua, questi sono i documenti per te Documenti E queste sono 128 mila lire di fondo Capirai, ho fatto 13 Nico, non fare lo spiritoso perché ti faccio rapporto Senti, tu hai sistemato tutto, hai fatto tutto di A Trenti scusa, ma te posso fare la domanda? Sì Ma tu chi cazzo ti credi da essi? Io sono il commissario Trentini La voce dell'innocenza, eh? Eh C'è...